Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. In Isaia capitolo 42, verso 8, dice Io sono il Signore, questo è il mio nome, io non darò la mia gloria a un altro. Nella lode che mi spetta agli idoli, Signore aiutaci. Bene, io sono colui che sono, colui che esiste, l'Eterno, non do la mia gloria a nessuno, tantomeno con gli idoli, o non la divido, non la condivido. Quando il Signore compie un miracolo nella nostra vita, non dobbiamo dire mai lo ha fatto quel santo, lo ha fatto quella madonna. Perché è fatto in questo modo, disonoriamo Dio. Leggiamo un'altra volta questo verso, perché è molto importante. Dio ci dà degli insegnamenti che sono utili per il nostro cammino. Io sono il Signore, questo è il mio nome, Yahweh, Adonai, Gesù, Spirito Santo. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Non dobbiamo dire l'ha fatto quel santo, quella madonna. Quando Gesù cacciava i demoni e i farisei dicevano che era per il potere di Satana, Gesù ha messo un segno preciso dicendo che chi dà la gloria al diavolo per le cose che fa Dio è un peccato allo Spirito Santo, è un peccato imperdonabile. Dobbiamo stare attenti, perché noi incorriamo in un grande pericolo. Leggiamolo insieme in Matteo 12,24 Matteo 12,24 dice così Leggiamolo, c'è qualcosa che non fa Ma i farisei, udendo ciò, dissero Costui non scaccia i demoni se no per l'aiuto di Belzebù principe dei demoni Loro non lo dissero neppure in questo caso Lo pensarono Leggiamo il verso 25 Loro lo pensarono Ma Gesù legge i nostri pensieri Ma egli, conoscendo i loro pensieri disse loro Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina E ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere Noi in questo modo Quando diamo la gloria a un altro di quello che fa Dio incorriamo in un grande pericolo Nel verso 30 Nel verso 30 Noi ci mettiamo contro lo Spirito Santo Dio e Spirito ci mettiamo contro Dio E Gesù dice così Chi non è con me è contro di me E chi non raccoglie con me disperde Per Dio Non esiste una posizione Per Cristo Per noi cristiani Non esiste una posizione neutra Gesù in questo verso sta dicendo che chi non è con Dio e per Dio non è al centro ed è un poco a una parte e un poco all'altra Questi chiarimenti nel Vangelo nella mente di Dio nella mente di Gesù Cristo non gli è mai venuto in mente che noi possiamo essere un poco e un poco anche quando dice non si possono servire due padroni egli stabilisce la ricchezza o le facoltà del mondo come mammona e li mette come due dei due padroni osserviamo uno osserviamo l'altro non è che dobbiamo rifiutare al benessere che Dio ci dà però non ci dobbiamo mettere il cuore perché se no veniamo assorbiti e di conseguenza il Signore non dice di non avere il necessario e di non prosperare e avere prosperità il pericolo è se ci mettiamo il cuore che mettiamo queste cose al posto di Dio nella nostra vita sai noi possiamo mettere tante cose nella nostra vita al posto di Dio Dio per Dio non esiste una posizione neutra infatti Gesù in tanti posti ci dice chi ama padre madre fratello sorella più di me non è degno di me tutte queste cose ora accumulando tutti questi pensieri ci fa comprendere che noi dobbiamo veramente stare attenti perché quando si erge qualcosa al di sopra di Dio o peggio ancora se il Signore opera nella nostra vita e noi diamo la gloria ad un altro offendiamo Dio dobbiamo controllare i nostri pensieri come abbiamo visto perché Gesù nel verso 25 dice che leggeva i loro pensieri ora non dobbiamo stare solo attenti di quello che diciamo dobbiamo vigilare all'origine perché pure che non lo diciamo e dentro di noi ringraziamo San Francesco Sant'Antoni e così via stiamo offendendo Dio non lo dobbiamo fare dobbiamo controllare i nostri pensieri lui li vede leggiamo il verso 25 per cortesia dice ma egli conoscendo i loro pensieri Dio conosce i nostri pensieri molti credenti pensano e vivono come se Dio fosse assente dove si muovono ho detto prima che noi cerchiamo di controllare ogni centesimo perché Dio è sempre presente quando parliamo quando non parliamo perché lui dice che conosce i nostri pensieri prima che arrivano sulla nostra bocca nel Salmo 139 lo dice ora questa conoscenza dice il salmista che è troppo grande per lui ma certo perché questa è la sapienza di Dio Dio è onnisciente sa tutto questo vuol dire questa parola anche se facciamo un'operazione in ospedale e troviamo il miglior dottore che ci sia nel mondo e lui taglia e cuce e ne veniamo fuori possiamo dire è un bravo dottore ma dobbiamo sempre pensare che questo dottore sottoposto a Dio dobbiamo dire grazie a Dio che si è servito di quel dottore per fare quest'operazione che ha tagliato e ha cucito e mi ha tirato fuori il cancro diciamo qualcosa perché realmente chi guarisce veramente è Dio il dottore taglia ai cuci grazie a Dio per quanti ce ne sono e quanti hanno una passione che oltrepassa la nostra immaginazione c'era un dottore che curava mia mamma che alle tre alle quattro di notte andava a trovarla perché era un'operazione a livello a livello europeo venivano dalla Germania a alcuni dottori per vedere quel dottore come aveva come aveva operato per lui era un grande onore il 95 96% con quel tipo di rottura del quinto e sesto anello della colonna vertebrale spostati sono sempre morti mia mamma per un miracolo di Dio restò 90 giorni in trazione per 18 giorni non digerì quello che aveva mangiato al matrimonio dello sposalizio di mia sorella che successe l'incidente un vero miracolo di Dio ma noi dobbiamo sempre pensare che al di sopra del dottore c'è Dio e dobbiamo dentro di noi pensare sempre grazie siano rese a Dio non offendiamo Dio per amore del Signore si è servito di quel dottore il dottore taglia e cuce ma Dio è colui che guarisce che rimargina la ferita il Marco 3 28 continua Gesù molto importante quando alcune cose vengono ripetute vuol dire che sono importanti in verità vi dico ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmi avranno proferito compare in tutti i Vangeli chiunque diffama deliberatamente con irriverenza verso lo Spirito Santo verso Dio vuol dire nel verso 29 leggiamolo insieme ci vado calmo perché questo è qualcosa che dobbiamo veramente vigilare ma chiunque avrebbe stemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno ma è reo di un peccato eterno perché in questo modo si dà la gloria a Satana si dà la gloria ad altre cose ti posso fare una domanda ammesso che tu ti impegni in un gruppo di persone per fare qualcosa con tutto il cuore con tutto il desiderio di fare una cosa per bene e quando tu l'hai fatta chi deve presentare quello che tu hai fatto e dice che l'ha fatto un altro come ti senti? a volte quando in una conferenza in una riunione tutti quelli che hanno partecipato per la riuscita di quel prodotto vengono elencati e normalmente chi vuole dire chi è stato a collaborare se li segna su un pezzo di carta per non offendere nessuno perché se tu fai una cosa e chi deve manifestare quello che tu hai fatto dice che l'ha fatto un altro tu dentro non ti senti bene quando noi facciamo così noi offendiamo Dio io te lo dico con solennità perché questa è una cosa molto importante noi abbiamo visto nella nostra chiesa gente morire per questo scopo abbiamo pregato per persone che erano messe male il Signore li ha liberati e li ha guariti poco tempo dopo hanno portato hanno fatto voti a delle statue ed hanno portato quelle offerte che loro hanno fatto sono stati poco tempo e sono morti bisogna stare attento perciò lo dico con cura una di queste veniva accompagnata da un suo fratello noi pregavamo per la sua sorella il Signore ha operato sulla sua sorella ma ancora di più ha salvato il fratello ed è restato salvato lui aveva una testimonianza potente ha incominciato a frequentare la chiesa ed ha chiesto subito il battesimo perché si esprimeva così io questa notte ho parlato con Dio non sapeva dire di più perché era la prima volta che era nato di nuovo Dio mi ha parlato io ho parlato con Dio una conversione rapida forte mentre noi pregavamo per la sorella il Signore ha salvato il fratello e ha operato bisogna stare attenti Signore aiutaci perché in questo modo si dà la gloria a chi non deve averla rileggiamo Isaia 42 8 così stiamo attenti ed ascoltiamo con attenzione noi mettiamo i versi sul display per cortesia prendi quei versi che hai bisogno di modificare il tuo modo di esprimerti scriviti lì e vai a leggerli nella tua Bibbia io sono il Signore questo è il mio nome Adonai Yahweh Gesù Spirito Santo tutti e tre vengono chiamati Dio tutti e tre vengono chiamati Signore quando diciamo Signore diciamo Padrone Signore Signore Gesù il Signore Spirito Santo il Signore Dio Onnipotente ognuno svolge un ruolo diverso per la nostra salvezza Dio non scende dove siamo noi manda lo Spirito Santo Dio non salva Gesù ci salva e lo chiamiamo Dio mi ha salvato perché Gesù è Dio leggiamo questo verso un'altra volta perché è molto importante che noi ci modelliamo io sono il Signore questo è il mio nome io non darò la mia gloria a un altro né la lode che mi spetta agli idoli Dio è Signore e noi lo dobbiamo sapere Dio ha stabilito questi principi in tutta la Bibbia e noi non dobbiamo incorrere nella punizione che viene da Dio hai mai sentito delle punizioni che Dio dà guardiamolo nei comandamenti ci sono dieci comandamenti leggiamo nel verso 5 del capitolo 20 dell'Esodo dove sono i comandamenti del Signore non ti prostrare davanti a loro e non li servire perché io il Signore il tuo Dio sono un Dio geloso punisco vedi la punizione se ci puoi mettere il verde sopra per qualcuno che non vede il verde l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano che si riversa su noi sui nostri figli fino alla terza e alla quarta generazione ma Dio per evitare che noi incorriamo in questo pericolo cerca di fare prevenzione che vuol dire prevenzione ti porto un piccolo esempio io sono il primo di dieci figli avevamo bambini piccoli a casa il fuoco era necessario allora perché era così ma i bambini andavano a finire nel fuoco abbiamo fatto un ferro di protezione intorno al fuoco con una rete in modo che il bambino non cadeva poi c'era una scala con dodici scalini pericoloso dall'altra parte abbiamo messo un cancelletto per non far cadere i bambini queste prevenzioni voglio essere molto semplici Dio dal verso 3 di questo di questo capitolo fino al verso 5 per evitare che noi incorriamo nel pericolo ci dice di non farli proprio leggiamo dal verso 3 al verso 5 non avere altri dei oltre a me con la D minuscola non farti scultura né immagini alcuna non solo dei vitelli e delle cose non farti scultura per adorare non opere d'arti che servono per la qualità dell'autore che fa un bravo artista non farti scultura né immagini alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare davanti a loro e non li servire perché io il Signore il tuo Dio sono un Dio geloso punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano quando noi trasgrediamo ciò che dice Dio odiamo Dio come dire tu puoi dire quello che vuoi io faccio quello che voglio e dato che non siamo neutri davanti a Dio vuol dire che abbiamo scelto di operare volontariamente contro Dio rileggiamo Rileggiamo Isaia 42 8 perché così abbiamo un tracciato dove io sono il Signore questo è il mio nome io non darò la mia gloria a un altro né la lode che mi spetta agli idoli in Esodo capitolo 3 verso 15 quando apparve a Mosè dice così io sono il Signore leggiamolo insieme Dio disse ancora a Mosè dirai così ai figli di Israele perché lui aveva qualche difficoltà non aveva in mano niente come siamo noi il Signore il Dio dei vostri padri il Dio di Abramo il Dio di Isacco il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi tale il mio nome in eterno così sarò invocato di generazione in generazione Mosè si presentò così con le mani vuote davanti a Faraone in Egitto in quel tempo c'erano più di 2400 statuette dei che ognuno nella sua tenda adorava Mosè si presentò con le mani in mano con un bastone aiutaci Signore e quel Dio tirò fuori tre milioni di persone dalla schiavitù io sono il Signore aveva una grande difficoltà Mosè io vado chi devo dire gli devi dire come dice nel verso 14 diciamo il verso io sono l'auto esistente io sono colui che sono poi disse dirai così ai figli di Israele l'io sono colui che vive in eterno fin dall'eternità per tutta l'eternità sono la sorgente della vita potremmo dire mi ha mandato da voi bellissimo questo qui c'è un esempio di noi credenti mettendoci al posto di Mosè Mosè aveva veramente una difficoltà entrare in un Egitto che tutti avevano qualche Dio come quando l'Apostolo Paolo entrò nella città di Atene piena di idoli da tutte le parti dice ho visto che siete molto religiosi e poi tanto erano religiosi dice beh ne abbiamo fatti tanti può darsi che qualcuno ci è sfuggito facciamo anche un piccolo santuario e ci mettiamo lì Dio sconosciuto se per caso qualche essere sovrannaturale di questi dei che facevano con le mani si dovesse lamentare diciamo guarda che ti abbiamo messo lì avevano fatto un posto come hanno fatto i cattolici hanno pieno di santi tutti i giorni si fanno santi per i padroni dei paesi poi hanno fatto i padroni del mare hanno fatto i padroni delle delle città poi alla fine se ce ne siamo sbagliati qualcuno l'idolatria abbonda facciamo il primo di novembre che se qualcuno non gli abbiamo dato un paese lo includiamo il primo di novembre e diciamo tu sei lì e perciò abbiamo accontentato tutti quando accontentiamo tutti non abbiamo accontentato nessuno sai perché abbiamo commesso un grande peccato abbiamo diffamato Dio Isaia 42 8 leggiamolo un'altra volta perché noi siamo ridicoli noi esseri umani siamo ridicoli io sono il Signore questo è il mio nome io non darò non dice neppure che si chiama Geova perché Geova non è Geova è Yahweh ve lo fa vedere ora la regia Yahweh che neppure Yahweh non si può pronunciare il nome di Dio perché non lo possiamo incastrare in un box e diciamo questo è Dio perciò l'ha fatto che non possiamo neppure pronunciarlo è il Signore il padrone di tutto l'universo a Dio sia la gloria leggiamolo un'altra volta poi la regia ci fa vedere il nome di Dio è impronunciabile io sono il Signore questo è il mio nome io non darò la mia gloria a un altro né la lode che mi spetta agli idoli Dio per salvaguardarci ha fatto prevenzione non vuole che profaniamo il suo nome la sua persona tutte le volte che si sono dati all'idolatria il suo popolo che hanno profanato sconsacrato offeso il nome di Dio sono andati in cattività in prigione in servitù in schiavitù sicuramente nella vita può essere successo nella nostra vita e perciò dobbiamo stare attenti eccolo qua questo è il nome di Dio vedi se riesci a pronunciarlo è impronunciabile ci ha dato un altro da poter dire il Signore il Padrone lì Dio onnipotente ti adoriamo Signore ti benediciamo gloria sia resa a Dio gloria sia resa a Dio se sei un testimone di questo Yahweh neppure Yahweh perché la A non c'è la E non c'è tutte quelle quelle vocali che sono state messe non ci sono nell'originale io sono l'eterno esistente l'eterno io sono l'eterno non vuole che profaniamo il suo nome la sua persona tutte le volte che si sono dati all'idolatria o hanno portato poca riverenza per il Signore confondendosi hanno profanato sconsacrato il nome del Signore il popolo di Dio ha sofferto le persone dico non guardiamo le masse persona per persona e se vuoi una mia veduta adesso c'è guerra laggiù ma io ho una veduta quel popolo non sta seguendo Dio si chiama popolo di Israele come la Chiesa moderna ciò che sta accadendo se ci fosse il profeta Geremia o il profeta Isaia o qualche profeta di quelli autorizzati da Dio sai che cosa direbbe? direbbe il nome di questi castighi perché non può essere diversamente che il popolo di Dio si trova sempre in queste condizioni Dio non so dove lo hanno messo perché realmente quello che Dio chiede non si vede non si sente il profumo di un popolo che adora Dio ce ne sono tanti che si chiamano israeliti ma sono atei anche nella Chiesa di oggi moderno c'è questo pericolo perciò dobbiamo stare attenti dobbiamo vigilare abbiamo guardato la prima parte che Dio deve avere ci può essere anche un'altra parte e poi facciamo di noi stessi un Dio e la parola del Signore corre ai ripari anche per questo chi si innalza un poco di più perché ha delle caratteristiche delle capacità qualche cosa c'è un verso che non ho segnato se lo trova la regia ci fa un piacere dice che cosa hai tu che non hai ricevuto e se lo hai ricevuto perché ti vanti anche questo è pericoloso per noi personalmente di che cosa hai da vantarti se tu l'hai ricevuto perché a volte succede che noi facciamo diventare Dio noi stessi ci sono delle persone che quando parli con loro come se gli dovresti dire tieni ancora un po' perché sennò qua finisce tutto quando parli con loro dà l'impressione che loro tengono tutto il mappamondo il mondo che semmai al mondo lasciano loro andiamo a finire tutti nell'abisso perciò dico tieni ancora un po' così mi esprimo proprio quando vedo queste persone ma quanto a me non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo mediante il quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo ma l'altro che dico io dice chi si vanta si vanti nel Signore ce n'è un altro che dice se tu l'hai ricevuto che cosa è da vantarti il succo è questo ora dico quando dico a questi che fanno tutto loro dico tieni un altro poco perché se no andiamo a finire tutti giù e poi gli dico guarda che non siamo noi che teniamo il mondo è il mondo che tiene noi siamo noi sopra il mondo e poi per fargli il raggio per farlo portarlo a ragionare gli dico senti amico il mondo stesso lo tiene Dio perciò tutto quello che tu pensi di essere te l'ha dato Dio è il momento che cominci a ringraziare Dio ci sono tanti che sono così io mi sono trovato per un periodo di grandi professionisti di aziende di un certo livello che quando avevo gli appuntamenti con loro dovevo pregare un po' di più la mattina perché proprio alla Bocconi li facevano come dei dei e tanti e tanti che sono in autorità basta che hanno il berretto apriti cielo che ti combinano pare che quando vedi ste persone ti devi inchinare che superano anche Dio bisogna stare attenti e noi credenti dobbiamo stare attenti perché se il Signore ci ha dato qualche possibilità di fare dobbiamo riconoscere che viene tutto da Lui e non dobbiamo sopraelevarci in nessun modo non abbiamo nulla da vantarci e Dio ci ha salvati proprio per grazia come dice in Efesini 2.8 affinché nessuno si vanti e che tutti possiamo onorare Dio che Lui è la fonte di ogni bene leggiamo Efesini 2.8 2.8 dice infatti è per grazia che siamo salvati siamo stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio affinché nessuno si glori ognuno non in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti dobbiamo combattere contro questo orgoglio e presunzione io ne ho tanto da vendere e tutti i giorni dico Signore per piacere per piacere abbassa sto io perché sembra come una molletta che passa sempre 20 centimetri da sopra la testa abbassati un poco per piacere stai calmo stai sotto i piedi perché è ora che cominci a abbassarti Signore aiutaci a San Paolo se tu ricordi per mantenerlo nella giusta posizione Dio gli rispose e disse la mia grazia ti basta lascia stare perché se ti do tutto quello che mi chiedi diventi pericoloso noi possiamo essere pericolosi dobbiamo riconoscere Dio al di sopra di ogni cosa in Matteo 12 31 leggiamo ogni peccato bestemmia perciò io dico vi dico ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini alleluia gloria al Signore ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini se come dice la sua parola lo confessiamo con il desiderio di non continuare infatti in primo Giovanni 1 9 dice così che possiamo essere perdonati e lo dobbiamo fare subito anche adesso mentre ascoltiamo la parola del Signore leggiamolo insieme questo verso se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità alleluia la confessione è indice di vera salvezza la confessione ci aiuta di ritornare alla forma originale ci permette di stare davanti a Dio ed essere perdonati lo dobbiamo fare se lo abbiamo fatto per il passato se quello che abbiamo letto non abbiamo dato la gloria al Signore questo è il momento di dire Signore perdonami confesso di avere sbagliato non lo sapevo l'ho fatto ma tu Signore mi devi perdonare quando andiamo al Signore Egli è pronto a perdonare dobbiamo andare però con lo stato d'animo giusto non dobbiamo avere la voglia di ripeterlo quando stiamo alla presenza del Signore la nostra coscienza si risveglia quando andiamo seriamente nel capitolo 8 verso 9 del Vangelo di Giovanni allora la confessione è indice di vera salvezza mentre ascoltiamo lo Spirito Santo ci parla ci parla dentro quando Gesù parla ci parla dentro leggiamo questo episodio come Gesù parla dentro essi udito ciò uscirono a uno a uno cominciando dai più vecchi e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava lì in mezzo ci fa sentire moralmente spiritualmente in errore qui non abbiamo il tempo di leggere tutto qui degli uomini presero una donna che era stata colta in adulterio come si usa adesso in Iran se tu guardi sui giornali c'è scritto che il marito ha accusato la moglie di adulterio perché l'ha trovata con un altro e stanno facendo la causa di morte deve essere lapidata così si usa questa donna portata dagli uomini davanti a Gesù Gesù disse che la dovevano lapidare Gesù disse chi è senza peccato scagli la prima pietra ed essi richiamati dalla propria coscienza perché quando stiamo nella presenza di Gesù lui risveglia la nostra coscienza porta luce Gesù mentre parlava emanava luce noi andiamo al Signore lui porta luce al nostro cuore per farci vedere che noi abbiamo sbagliato infatti la confessione cosa serve quando andiamo a lui e parliamo e chiediamo perdono lui porta luce porta luce che abbiamo sbagliato perciò andiamo se hai dato gloria ai santi alle statue o a qualche altra parte è il momento di confessare perché egli attraverso la sua parola porta luce spirituale e morale nella nostra vita così questi se ne andarono perché la luce di Cristo parlava la loro coscienza ma faceva due cose la presenza di Cristo parlava alle coscienze ma la presenza di Cristo faceva notare a quella donna che quegli uomini se ne erano andati perché erano stati illuminati che avevano che avevano pure il loro peccato lei si accorse di essere davanti a Dio Gesù Dio leggiamo insieme ci fa sentire moralmente spiritualmente sporchi piccoli o grandi che siamo potevano essere tutti perdonati ma se ne andarono a volte noi andiamo davanti al Signore gli diciamo papapà e poi ce ne andiamo invece questa donna mentre continuò a restare alla presenza del Signore notò che quelli che la volevano la volevano lapidare man mano per i riflessi della luce di Cristo che rifletteva nelle loro coscienze non ci restò nessuno che la poteva condannare si sentì liberata perché il Signore era davanti a lei lei non si muoveva leggiamo nel verso 10 che cosa succede a questa donna Gesù ha alzato gli occhi e le disse donna dove sono nessuno ti ha condannato è perché la coscienza si era svegliata si era svegliata pure la coscienza della donna davanti a chi si trovava ma solo lei restò aspettò il verdetto di Cristo il verdetto di Cristo nella coscienza degli altri li aveva fatti sentire peccatori e se ne andarono ma era il momento di dire Signore perdonaci invece se ne andarono mentre lei restò ebbe un flash di luce nella sua nella sua vita si accorse che Gesù era il Signore era Dio quel Signore che abbiamo detto io sono il Signore leggiamo in Isaia 42 8 chi era? io sono il Signore il Signore era davanti a lei non c'era un idolo c'era il Signore questo è il mio nome io non darò la mia gloria a un altro l'avevano già gli uomini l'avevano già condannata ora aspettava timorosa la condanna del Signore ma guardiamo mentre lei aspettava la condanna e la rispose nessuno Signore fa conto di togliere quel punto Signore Gesù e Gesù disse neppure io ti condanno va e da ora in poi non beccare più nessuno Signore lei lo riconobbe come il Signore che perdona quando siamo davanti a Lui non dobbiamo solo confessare dobbiamo aspettare la sua risposta molte volte noi andiamo di fretta e non ci portiamo il perdono andiamo peccatori e torniamo peccatori perché non facciamo un'altra volta la stessa cosa perché non sentiamo il perdono quando il Signore ci perdona veramente abbiamo il timore di rifare quello che facevamo questa è la conversione e qui è il segreto della salvezza quelli che se tu sei una di quelli che confessi e continui a fare quello che facevi non è conversione questa se tu fumi e dici Signore perdonami e compri un altro pacchetto di sigarette non sei stata perdonata perché quando il Signore ti perdona non lo fai più perché poi devi andare seriamente un'altra volta davanti al Signore cominci a stare più attento una volta ruppi una chiave inglese a uno che me la prestò e non gli dissi niente mi pensava tanto sulla coscienza mentre tornavo con il camion lui stava davanti la porta e mi guardava pensai quello lo sa che sta pensando di me gli ho prestato la chiave una chiave inglese una di quelle col cricchio che fa cric 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 me l'ha rotta e non ha detto niente ma lui non ci pensava neppure però a me pesava tornai col camion era ancora davanti la porta dell'officina ah disse stavolta mi fermo disse vado là disse senti non so se hai notato ti ho rotto la chiave numero erano a numero era tutta la cassetta dissi guarda ti voglio comprare la cassetta mi guardò e mi disse ma io ne tengo tante non ti preoccupare il perdono mi alleggerì mi sentì leggero però dovetti andare a confessarlo quando il Signore ti perdona non lo fai più infatti Gesù che cosa disse a questo leggiamo questo verso perciò devi aspettare la risposta molti si confessano ma non si confessano ripetono sempre le stesse cose e le rifanno sempre neppure io ti condanno ma in quella parola non ti condanno il perdono la soluzione data dal Signore non ti permette di continuare va e da ora in poi non peccare più possiamo sempre cadere ma sentiamo il rimorso dopo di allora sai che cosa cominciai a pensare che devo rettificare la mia vita perché se no dopo mi devo andare a umiliare davanti alle persone per dirgli perdono quando il Signore mi parla e allora sto più attento così cominciamo a stare più attenti nelle cose hai messo qualche statua al posto di Dio nella tua vita oggi il Signore ti vuole perdonare ma non ti devi mai più piegare davanti a una statua tu dici ma quella che io e padre Pio no leggiamo un'altra volta e prendi nota esodo 20 no no esodo 20 3 e 4 leggiamolo insieme non avere altri dei oltre a me non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra guardiamo il verso 5 per cortesia non ti prostrare davanti a loro e non li servire perché io il Signore il Signore ti voglio perdonare ma tu non devi continuare mai e non peccare più allora il perdono funziona il tuo Dio sono un Dio geloso fa due cose Dio o punisce o perdona punisco l'iniquità dei padri se continui sarai punito se ti fermi sarai perdonato aiutaci il Signore leggiamo il verso 11 che eravamo letto prima del capitolo 8 di Giovanni lei restò per aspettare la soluzione e la rispose nessuno Signore Signore Gesù condannami tu e Gesù anziché condannarmi lei l'aveva riconosciuto come colui che perdona Dio ti vuole perdonare ma e da ora in poi non peccare più cioè non fare più la prostituta non andare a prostituirti ancora e sai dopo essere perdonata non l'ha fatto più tu dici che ne sai sì lo so lo so perché il peccato per sette secondi di godimento ti porta un rimorso nel cuore che è molto più pesante dei sette secondi di godimento sono certo che non l'ha fatto più perché il Signore l'aveva salvata dalla morte quelle la lapidavano veramente e il Signore gli diede la salvezza eterna il piacere che troviamo in certe cose quando il peccato arriva fresco sulla nostra mente nel nostro cuore ci porta un peso e perciò il vero perdono non ci fa continuare se tu continui a dire al Signore Signore perdonami e lo continui a fare non sei stato mai perdonato perché il perdono di Cristo ti fa desiderare di non offenderlo più di non ripetere perché se tu vai a chiedere perdono vuol dire che quello è peccato se Cristo ha preso il posto giusto nella tua vita a te dispiace fargli un torto e perciò lui ti dà la forza di superarlo se fumi e chiedi perdono e compri l'altro pacchetto non sei stata mai perdonata sorella chiedegli perdono veramente con tutto il cuore aspetta il suo perdono che ti dice vai a non peccare più e quando ti sposti per andare al tabacchino ti fermi prima perché senti la voce dello Spirito Santo senti nella tua coscienza che stai tradendo il Signore e non lo puoi fare più la sofferenza che ebbe Pietro di aver innegato il Signore il gallo cantò la tradizione dice che quel canto di quel gallo lo fece piangere e dopo durante la sua missione in giro per le campagne dove andava a predicare perché non era una grande città quando sentiva cantare un gallo dice la tradizione che si inginocchiava e piangeva al ricordo di come sotto la croce prima della crocifissione aveva rinnegato il Maestro quando il Signore ti perdona non puoi più continuare perché gli incide qualcosa di grande nella nostra vita non possiamo più scherzare con Dio perché Dio è buono ma buono è una cosa ma non tollera verso 5 abbiamo dito io sono un Dio geloso e non voglio che tu fai questo sono un Dio geloso perciò punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione tu vuoi male a te ai tuoi figli ai tuoi nipoti ai tuoi pronipoti ti conviene portare tanto danno nella tua vita nella tua casa nella tua famiglia nei tuoi discendenti che ne pagano le conseguenze anche quando non ci sei più questa è l'eredità che vuoi lasciare ai tuoi figli no preghiamo insieme signore veniamo a te grazie per la tua parola ora come tu hai fatto con quella donna che hai parlato alla sua coscienza come hai fatto con quelli che se ne sono andati peccato potevano essere perdonati si trovavano davanti a colui che era pronto a perdonare ma non vollero essere perdonati signore fa che veniamo a te in questo momento confessare sì per essere perdonati e per non continuare ti ringraziamo per la tua parola grazie per la luce che tu porti alle nostre coscienze perché quando tu parli con la luce dello spirito santo rifletti fai guardare nei nostri cuori come siamo messi spiritualmente e moralmente perciò tu porti luce tu sei la luce del mondo e fai luce nella nostra vita nella nostra mente nel nostro cuore perché tu sei Dio e a te vogliamo dare l'odio l'onore e gloria ora e sempre amén amén amén